Per esempio, per favore, pensate a una situazione che volete risolvere. In quella situazione riflesso l'elemento del passato. Il metodo sarebbe che l'elemento del passato dovrebbe essere collegato, dovrebbe essere relativo al tessuto trasformato. In altre parole, se nel nostro corpo abbiamo un'area che vogliamo trasformare, che vogliamo cambiare, allora questo spazio di tessuto trasformato nel corpo dovrebbe essere collegato, paragonato, diciamo, con questo passato che vogliamo trasformare. Nel senso che, ad esempio, se noi vediamo l'assa temporale, guardando quest'assa temporale, noi dobbiamo semplicemente trovare questa, diciamo, questa parte del nostro forse passato, questo periodo che dovrebbe essere trasformato, che vogliamo trasformare. E questi sono gli avvenimenti che sono, che vengono riflessi, diciamo, nelle nostre cellule, nel presente. Quindi sono gli avvenimenti, questi avvenimenti nel passato hanno portato alla trasformazione del tessuto nel presente, del tessuto del corpo. E noi dobbiamo, diciamo, togliere questa influenza, togliere questo spazio dal futuro, così che nel futuro non sarà presente. e quindi dobbiamo togliere questa informazione dell'informazione del futuro però senza rovinare la struttura delle vendimenti nel futuro la sequenza delle vendimenti perché infatti molti avvenimenti del futuro sono influenzati dalle ragioni dai motivi nel passato perché il tempo passa si creano dei nuovi elementi e quindi dobbiamo togliere questa diciamo questa influenza che è rimasta nel corpo però senza rovinare la sequenza degli avvenimenti nel futuro ed è una cosa molto interessante perché Grigori Petrovic dice che infatti lo possiamo fare possiamo fare in questo modo dice che possiamo togliere questa influenza del passato senza rovinare nessuna struttura nel futuro senza diciamo distruggere la sequenza degli avvenimenti e questo si fa tecnologicamente molto facilmente l'abbiamo appena fatto questo si fa attraverso diciamo la crescita del livello positivo in tutti gli avvenimenti del macroambiente e del microambiente in tutti gli avvenimenti del macroambiente e del microambiente questo è il sistema di sviluppo senza la distruzione del sistema di sviluppo diciamo senza distruzione di altre informazioni вот давайте мы сейчас это сделаем обратite внимание на вот этот акцент который Grigori Petrovic нам показал как мы изымаем влияние прошлого из текущего и из будущего per non facciamo che è un most blame che è iniziato per non facciamo questa è andata